Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono tornati insieme, colpo di scena dopo Temptation Island, lui mi ha regalato una stella. Le scuse, poi la proposta di matrimonio.Da ti faccio schifo a sì, lo voglio il passo può essere breve, almeno a Temptation Island. Lino Giuliano e Alessia Pascarella, usciti separati dal reality dopo il tradimento di lui con la tentatrice Maika Randazzo, hanno sorpreso tutti annunciando il loro ritorno di fiamma e un matrimonio a sorpresa. A orchestrare il colpo di scena è stato Lino, che ha organizzato una romantica sorpresa per riconquistare Alessia e chiederle scusa. Rose e Rosse, una stella con il loro nome, un palco con tanto di cantante e una scritta al neon con la parola scusa, nulla è stato lasciato al caso. Una stella che porterà il nostro nome, inciso nell'infinito dell'universo, ha dichiarato Lino, mostrando il certificato di autenticità. Si chiama Lino e Alessia. La coppia, dopo essersi scambiata promesse d'amore, ha celebrato il matrimonio in un locale, dove Lino ha finalmente consegnato l'anello ad Alessia, un gesto rimandato a causa della pioggia durante la proposta. Alessia, sui social, ha commentato la riconciliazione, ringrazio sia i commenti positivi che quelli negativi, ma la confidenza no, prendetevela con qualche parente. Siamo stati mesi lontani, c'era stato un avvicinamento, ma niente di confermato, perché purtroppo le cose non si dimenticano. Lui è tornato sui suoi passi, mi sono sentita di dargli una possibilità. La loro storia, naufragata tra i falò di Temptation Island, ora ha avuto una svolta, Alessia, dopo aver lasciato Lino con parole dure sei un viscido, mi fai schifo, ha deciso di dargli una seconda possibilità. Un ritorno di fiamma che ha sorpreso i fan e che dimostra come, a volte, l'amore possa superare anche i tradimenti e le delusioni. Grazie a tutti.